Sono tre fondamentalmente i segni di una comunità animata dallo Spirito Santo, l'armonia, il bene comune e la pazienza. Lo ha precisato Papa Francesco celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta. Partendo da un passo degli Atti degli Apostoli, che descrive la vita della prima comunità dei cristiani, il Pontefice ha chiarito che lo Spirito Santo genera armonia, purifica le difficoltà e le persecuzioni, offre la pazienza di sopportare. In una vera comunità, dunque, non ci sono divisioni interne, non si accumulano ricchezze, non ci si arrabbia davanti alle difficoltà. In questa seconda settimana di Pasqua, adesso che celebriamo i misteri pasquali, ci farà bene pensare alle nostre comunità, siano le diocesane, le parrocchiali, le familiari, e tante altre altre, e chiedere la grazia dell'armonia che è più dell'unità, unità armonica, l'armonia che è il dono dello Spirito, di chiedere la grazia di la povertà, non della miseria, non della povertà. Cosa significa? Che se io ho quello che ho, devo gestirlo bene per il bene comune e con generosità e chiedere la grazia della pazienza. La pazienza e la pazienza